allora dai bambini noi stiamo uscendo voi fate bravi eh papà mi porta cena fuori dove mi porti stasera? ti porto fuori dai va bene? ci pensi tu? ci pensi tu? ci pensi tu? ciao tesoro mio ciao ci pensi tu al tuo fratello sì mi raccomando eh ok allora andiamo? sì tesoro ma meno male ah una sera tutta per noi eh ma che bello ah bello bello eccoci qui una sera tutta per noi mettete fuori quanto becco eh?